Marcia nunziale di Richard Wagner Il coro delle spose, inserito nello angry di Richard Wagner, è tra le musiche più utilizzate per accompagnare l'ingresso della sposa nelle celebrazioni nunziali. È così celebre da essere definita la marcia nunziale, nonostante ne siano state scritte molte altre. Lo spartito della marcia nunziale lo trovate anche nel vostro Stradivari, volume B, pagina 373. Consideriamo la marcia nunziale. Il significato di marcia nunziale può essere ricercato nell'intenzione di celebrare una festa matrimoniale con solennità e sereno ottimismo. L'indicazione andante con moto stabilisce la velocità della marcia, un tempo solenne e marziale che accompagna i passi degli sposi e il rito matrimoniale. La struttura temporale. La misura è binaria, mentre la figura ritmica che caratterizza la marcia è la cellula puntata, croma, punto e semicroma, dove il primo suono, cioè la croma col punto, dura esattamente tre semicrome e il secondo una semicroma. Eseguiamole con la voce. Usiamo sillabe differenziate per i valori che scompongono la semiminima e precisamente tacateche per le quartine di semicrome. Così. Tacateche, tacateche. Tacche per la croma col punto. Tacateche, tacche, tacche. La struttura melodica e armonica. La logica delle frasi musicali. Dobbiamo riflettere sul compito o funzione che ciascuna frase melodica svolge nell'insieme. Avvertiamo un primo arresto del discorso a battuta 8 ed un secondo arresto, ancor più marcato, a battuta 16. Dunque, possiamo considerare la marcia come costituita da due frasi successive ciascuna di otto battute. Frase numero una. Frase numero due. Possiamo notare che le battute uno, due, tre, quattro della frase numero uno sono identiche alle battute 9, 10, 11 e 12 della frase numero due. Mentre le restanti quattro sia della frase numero uno che della frase numero due pur avendo in comune la stessa struttura ritmica e la stessa nota di inizio re sono costruite su intervalli diversi. Ascoltiamo la prima frase. Ci accorgiamo che non comunica un senso compiuto termina sì con una pausa, una sospensione ma se dovessimo scegliere quale segno di punteggiatura inserirvi il punto ci sembrerebbe inadeguato forse meglio il punto e virgola o il punto interrogativo avvertiamo una sospensione della melodia e che il discorso non è finito La sensazione che la frase numero uno che apre il discorso ma non lo chiude è confermata dal fatto che essa termina non con la tonica il sol ma con una nota di movimento come il la che fa parte dell'accordo di dominante di re Passiamo ora alla seconda frase Qui avvertiamo alla fine la sensazione della chiusura del riposo Di fatti abbiamo la tonica il sol sul tempo forte Da tutto ciò possiamo dire che una frase melodica si presenta come un arco che dapprima si muove verso la tensione quindi ritorna a un punto di riposo In questo tragitto svolge precise funzioni quella di aprire o quella di chiudere Non molto diverso è il compito delle frasi nel discorso verbale dove pure abbiamo frasi che introducono e frasi che concludono Ad esempio Consideriamo che l'imputato all'ora del delitto era al bar con gli amici Qui ci aspettiamo una conclusione che arriverà Perciò non può essere lui l'autore del crimine Il brano di marcia si presta ad un'esecuzione di gruppo con accompagnamento di chitarra e percussioni Gli accordi della chitarra sono segnati a voi trovare e scrivere dei ritmi per le percussioni Gli accordi della chitarra